Dal Vangelo secondo Luca In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli A voi che ascoltate io dico Amate i vostri nemici Fate del bene a quelli che vi odiano Benedite coloro che vi maledicono Pregate per coloro che vi trattano male A chi ti percuote sulla guancia Offri anche l'altra A chi ti strappa il mantello Non rifiutare neanche la tunica Dà a chiunque ti chiede E a chi prende le cose tue Non chiederle indietro E come volete che gli uomini facciano a voi Così anche voi fate a loro Se amate quelli che vi amano Quale gratitudine vi è dovuta Anche i peccatori amano quelli che li amano E se fate del bene a coloro che fanno del bene a voi Quale gratitudine vi è dovuta Anche i peccatori fanno lo stesso E se prestate a coloro da cui sperate di ricevere Quale gratitudine vi è dovuta Anche i peccatori concedono prestite ai peccatori Per riceverne altrettanto Amate invece i vostri nemici Fate del bene e prestate senza sperare nulla E la vostra ricompensa sarà grande E sarete figli dell'Altissimo Perché Egli è benevolo verso gli ingrati e i malvagi Siate misericordiosi Come il Padre vostro è misericordioso Non giudicate e non sarete giudicati Non condannate e non sarete condannati Perdonate e sarete perdonati Date e vi sarà dato Una misura buona, pigiata Colma e traboccante Vi sarà versata nel grembo Perché con la misura con la quale misurate Sarà misurato a voi in cambio Parola del Signore Proseguiamo l'ascolto del discorso della pianura Secondo Luca E qui siamo proprio in una di quelle pagine famose del Vangelo Che proprio ti fanno volare in un'altra dimensione Che profumano di pane fresco Di Vangelo buono E anche però di, come dire, di un sogno Di un mondo diverso Perché è la pagina del perdono Amate i vostri nemici A chi ti percuote sulla guancia Offri anche l'altra Ma una lettura superficiale potrebbe sembrare Una, come dire, l'esaltazione A un atteggiamento passivo Cioè tu stai lì a prendere gli schiafoni praticamente Ma non è così Perché la misericordia Poi Gesù lo dimostrerà anche durante il suo processo Davanti al sommo sacerdote Davanti a Pilato Non vuol dire essere passivi Vuol dire essere non violenti Vuol dire non ripagare il male con il male Vuol dire non vendicarsi Vuol dire ecco quello che in sostanza Cioè in sintesi Luca dice Sia essere misericordiosi Come il Padre vostro è misericordioso Nello stesso punto Matteo diceva Siate perfetti come è perfetto il Padre vostro E potremmo chiederci come si fa a essere perfetti come Dio Non possiamo essere perfetti Noi non siamo perfetti come Dio Nessuno lo è Luca ci fa capire Lo spiega secondo me con questo versetto parallelo Lui non dice siate perfetti Dice siate misericordiosi Quando siamo misericordiosi Quando cerchiamo di perdonare Quando costruiamo il bene invece del male Allora noi assomigliamo a Dio davvero In quello possiamo essere perfetti come Dio È vero L'atteggiamento del perdono è difficile Perché l'atteggiamento più divino Non è un atteggiamento spontaneo Non è un atteggiamento immediatamente umano È un atteggiamento veramente divino Il perdono Il non rispondere al male con il male Neanche nel cuore Neanche con le parole Neanche con gli atteggiamenti Ecco questo è veramente L'atteggiamento di Dio con noi E per fortuna Noi chiediamo misericordia al Signore E dobbiamo allenarci a usare misericordia Perché come dice anche sempre nel Vangelo di oggi Con la misura con la quale voi misurate Sarà misurato anche a voi C'è una misericordia che non è mai passività Che non è mai essere così superficiali O essere larghi di manica A far passare tutto No La misericordia certo va coniugata con la verità Ma la verità senza la misericordia Diventa spietata La misericordia senza la verità Diventa cieca Ci vogliono tutti e due Misericordia e verità Il Signore ci aiuti a essere testimoni Di questo Vangelo Di questa bellezza Di questo amore Che costruisce il bene E tira fuori il bene Come fa Dio Anche dal male Anche dalle fatiche Anche dalle violenze Glielo chiediamo Grazie Grazie per la visione!